Ci troviamo all'interno della libreria Palo Marassaronno in via Padremonti 15. Sono Ilaria e lavoro qui da sette anni e siamo qui per intervistare Tenconi Marina, la titolare della libreria da ormai 16 anni. Marina, come nasce la tua avventura? Allora, l'avventura, chiamiamola così, nasce 16 anni fa perché, sostanzialmente perché a Saronno non c'era una libreria dove le persone potessero entrare e girare liberamente e guardare i libri. Lavoravo a Milano e facevo la decoratrice di murale e nella pausa pranzo si andava nelle librerie a fare un giro. Da lì mi è venuta la voglia di mettere una libreria che comunque era uno... lavorare in libreria era uno dei miei sogni, provare a lavorare in libreria. Per cui all'inizio ho pensato di mettere una libreria più piccola, poi le librerie piccole mi dicevano che non funzionavano tanto, per cui ho deciso di cercare uno spazio più grande e l'idea è nata così. Quali sono state le difficoltà iniziali più grandi? Ma in realtà all'inizio le difficoltà credo che siano state le difficoltà dell'apertura di qualsiasi attività. Le difficoltà sono venute un po' dopo perché il mercato del libro è un mercato competitivi. È difficile rimanere competitivi perché quello del libro è diventato proprio un mercato, dove il libro è un prodotto sostanzialmente, per cui bisogna... cioè secondo me si è perso un po' il senso del libro, perché il libro è un oggetto, è qualcosa che riguarda tutti i sensi, secondo me. Perché quando uno entra in libreria, secondo me quello che cerca è anche un'atmosfera. magari si è avuto una giornata non facile oppure si deve regalare qualcosa a qualcuno. Si entra e si respira un po' l'atmosfera. Si guardano i libri, si cerca qualche cosa da leggere, guardando le copertine, la copertina che ti colpisce di più. I libri possono essere tanti, è l'odore del libro, è lo spessore delle pagine, il colore, il colore della copertina, il titolo. Cioè è proprio un'esperienza. Non so, secondo me fare i librai è anche cercare di rendere questa atmosfera, per fare che quando uno entri sia contento di essere entrato lì e si senta bene. Oggi non è facile, non è facile. Ci sono tantissimi libri, tante novità tutte le settimane. I libri vengono venduti ovunque. Per cui io credo che la libreria debba essere un po' reinventata, proprio come come posto in cui stare. Quindi Marina mi stai dicendo che la libreria si deve reinventare. E come? Come non è una domanda facile. Però penso che Penso che questi tempi abbiano degli svantaggi e dei vantaggi. I vantaggi sono che Oggi secondo me Si possono avere Tante idee di libreria E ogni persona che apre una libreria può decidere Di fare un tipo di libreria diverso. Può fare la libreria dove semplicemente Vende un prodotto Può fare una libreria Dove Vende certi tipi di libri Cioè può fare tante cose Ci possono essere tanti tipi di librerie Io penso che Si debba reinventare la libreria Si debba reinventare proprio come luogo Poi con l'arrivo degli ebook Dell'acquisto dei libri in internet Io penso che oggi Non si debba più solo vendere i libri Si debba anche Fare qualcosa d'altro Non ho un'idea precisa su che cosa Perché per esempio le presentazioni degli scrittori A me Io non le amo Io penso che Un artista quello che ha da dire Lo dice con la sua opera Per cui uno scrittore Al meglio dice le cose che deve dire Nel suo libro La presentazione è qualcosa di In più Che non Che personalmente Non Non aggiunge valore Per cui Non Non mi interessa Riassumendo Che tipo di libreria è la libreria Palomar? La libreria Palomar è una libreria in evoluzione Direi Perché All'inizio L'idea era appunto Quella di vendere solo libri Adesso Abbiamo aggiunto ai libri I DVD Stiamo aggiungendo Dei giochi Nel reparto bambini Gli audiolibri Comunque degli articoli Che sono sempre Vicini Al libro Comunque fare il libraio Secondo me È una specie di vocazione Perché nasce Prima di tutto Dalla passione Non certo Dai Dai soldi Per cui Quello che Che io cerco di fare È realizzare sempre Quello che Dentro la mia testa Dovrebbe essere una libreria Certe volte È difficile farlo Negli ultimi anni È stato abbastanza difficile E forse Non siamo neanche riusciti Tanto a A rendere questa cosa Però ci stiamo lavorando Da un po' di tempo Per Cercare di Di creare un'atmosfera diversa Comunque Di Di proporre il libro In un modo diverso Che tipo di libreria È la libreria Palomar Una libreria Di viaggi I viaggi Possono essere tanti Possono essere i viaggi Dentro i libri di narrativa Dentro Nelle storie Di qualcun altro Che ti racconta La sua vita Le sue esperienze Può essere la guida di viaggio Può essere Il viaggio Di un bambino Che trova in un libro Un mondo Che non esiste Nella sua realtà È una libreria Dove spero Che le persone Le persone Trovino Un po' di Di fantasia Anche Di Anche la libertà Di La libertà Di scegliere quello che vogliono Di Di trovare qualche cosa Che a loro piace I punti forti Della libreria Palomar Penso Reparto bambini e ragazzi Da quest'anno Avvieremo anche una collaborazione Con un grosso gruppo editoriale Per fare dei laboratori Per bambini Appunto Poi un buon assortimento Di libri Gialli e narrativa E il reparto turismo Che stiamo ampliando Abbiamo aggiunto Gli audiolibri Che Quest'anno Diventeranno Di più E Anche Gli articoli Tipo Gadget Più o meno Legati al libro Che è Un settore Che si sta Ampliando In questi anni Beh Ti sei dimenticata Di dire L'assortimento Dei libri In lingua inglese Che abbiamo E in più Le iniziative Abbiamo Uno sconto 15 Tutti i mercoledì Su tutti i libri Presenti in libreria E Una tessera Ancora oggi Tra i miei preferiti Il libro che preferisco È Il barone rampante Però il barone rampante Era un titolo Un po' strano Per una libreria Palomar Comunque Dentro il libro C'è una filosofia Che si adatta Comunque All'idea Che ho io Di libreria Ecco Quindi vi salutiamo Dalla libreria Palomar Di Saronno In via Padremonti 15 Arrivederci a tutti E veniteci a trovare